E un aiuto concreto oggi è arrivato da Stefano Maullu che ha donato 4.000 euro con un assegno all'Associazione Pane Quotidiano. Insomma una bella iniziativa e chi può prenda esempio. Un piccolo contributo che abbiamo creato attraverso una scena benefica ed è dato a beneficio del Pane Quotidiano, un'associazione benemerita storica di Milano che aiuta giornalmente migliaia di persone e con cifre impressionanti durante l'arco dell'anno. Io credo sia assolutamente utile fare iniziative di questo genere ma sensibilizzare tutti per poter dare quotidianamente un aiuto ai più deboli, agli indifesi e ai diseredati. La crisi economica morde, morde in maniera assolutamente rilevante e credo che muoversi nel proprio piccolo, soprattutto in momenti particolari come l'inverno, credo sia assolutamente utile farlo perché la solitudine insieme alla mancanza di affetto crea condizioni devastanti insieme alla povertà. È un'associazione alla quale sono particolarmente legato e credo che insieme a me i tantissimi milanesi che fanno volontariato, aiutano in maniera diversa questa associazione, siano persone straordinarie proprio perché il ruolo del Pane Quotidiano è straordinario in questa città.